3 maggio 2024 Vedete questi occhiali? Non sono da sole Non so se avete notato i buchi Questi sono occhiali stenopeici Si avvalgono del fenomeno della diffrazione Con questi occhiali non vedo perfettamente Infatti non sostituiscono le lenti da vista Però vedo meglio di come vedrei senza occhiali A lungo termine Questi occhiali dovrebbero migliorare la vista Non posso usarli per guidare Però posso usarli quando faccio attività Che non richiedono una visione perfetta Ho comprato questi occhiali alla Fiera di Roma Durante l'ultima edizione del Festival dell'Oriente Un altro giorno parlerò del Festival dell'Oriente Anche se in parte ne ho già parlato E vabbè Che posso dire? Per ora chiudo Nei prossimi giorni parlerò di altre cose Grazie per l'attenzione Grazie per l'attenzione